Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Pagine Aperte Web. Iniziamo la puntata di oggi con un volto e un nome, che forse tutti conosciamo, ma molti di noi si sono dimenticati. Infatti c'è stato detto poco di lui. Abbiamo scelto di presentarvelo perché il 17 di novembre, tra pochi giorni, è il suo compleanno e lo vogliamo ricordare così, in qualunque parte del mondo si trovi. E' padre Paolo Dall'Oglio, un padre gesuita che ha trascorso 30 anni della sua vita in Oriente e lì che ha scoperto e riscoperto la sua fede. Ha fatto della sua testimonianza il fulcro del dialogo interreligioso con i musulmani. Questo non andava bene al governo siriano che nel 2011 l'ha espulso dal suo territorio, ma nulla ha fermato il coraggio della sua fede. Padre Dall'Oglio nell'estate del 2013 è rientrato in Siria per cercare di salvare alcuni ragazzi che erano prigionieri. Ma il 29 di luglio del 2013 è scomparso. Non sappiamo nulla di lui, eppure lo sentiamo vicino dei nostri cuori. Abbiamo scelto di conoscerlo meglio e presentarvelo nel migliore dei modi. Non poteva esserci modo migliore se non un libro come questo che si intitola L'uomo del dialogo e lui stesso a fare un ritratto della sua vita, della sua fede. Ed è un libro che nasce nel 2002. Ebbene sì, più di dieci anni fa, in un giorno speciale, quando una donna, ovvero Guglion de Montju, l'ha conosciuto. Ed è proprio lei che scrive questo libro insieme a lui. È la voce di questa donna, una giornalista francese, che si interseca con la vita di questo uomo. Un santo potremmo dire, che speriamo sia vivo, ma è ancora vivo nei cuori di coloro che l'hanno conosciuto. Dialogo interreligioso, vi ho detto. Ebbene, più di trent'anni fa, Padre Dall'Oglio arriva in Oriente, o per meglio dire in Siria, in una città chiamata Nebek. Ed è lì che incomincia a fondare una comunità monastica, fatta di silenzio e accoglienza, come lui stesso dice. Questo è un qualcosa che costa tanto alla sua vita, nel silenzio, nella sofferenza, ma cambia veramente tanto la vita di coloro che lo incontrano. Proprio come Guglion de Montju, che nel 2002 stava rientrando da un viaggio di lavoro. Ma c'è qualcosa che le dice che deve rimanere in questo territorio? Ebbene sì, rimane affascinata e si chiede, ma che cos'è Marmusa, ovvero il monastero fondato da Padre Dall'Oglio? O meglio, chi vive in quel monastero? È lì, infatti, che vive Padre Dall'Oglio? È lì che un enigma ferma l'autrice del libro ed è questo che la seduce. E lì c'è Padre Dall'Oglio, un uomo particolare, un uomo fatto di fede, di silenzio e di accoglienza. C'è un monastero dedicato a San Mosè l'Abissino, un santo particolare che tanti in Siria ricordano e seguono. E lì Padre Dall'Oglio si ferma. Guglion de Montju ascolta la sua testimonianza di fede e ce la restituisce in queste pagine che sono cariche e dense di emozioni. Come ci dice lei stessa nella presentazione, le frasi di Paolo non sono state dettate. È lo spirito di Paolo Dall'Oglio che parla e io l'ho solo trascritto, ci dice lei. Una citazione davvero intensa. Al centro di questo libro c'è un triplice incontro. Un primo incontro con Cristo, poi si passa al racconto della terra d'Oriente e l'incontro con i musulmani. Una popolazione fatta di cultura e religione che affascina davvero nel profondo Padre Dall'Oglio e da cui lui con la sua fede cristiana non riesce più a staccarsi. Un triplice incontro è un libro che viene diviso dall'autrice proprio in tre parti. Una prima parte è dedicata al racconto dell'infanzia e dell'adolescenza di Padre Dall'Oglio. Un'infanzia e un'adolescenza segnate da un peso invisibile nell'aria, come dice lui stesso. Un peso che però si trasforma e si trasforma grazie all'incontro con Cristo. Con Cristo, Gesù Nazareno, che cambia davvero nel profondo la vita di Padre Dall'Oglio, è lui stesso a dircelo. Un peso che si trasforma in speranza e gioia. Quando Paolo scopre la relazione personale con Gesù di Nazareth, in quella Nebec che lui chiama la bionda cittadella, la città in cui lui poi andrà a fondare la comunità di Marmusa. Una nuova vita di Paolo che lui stesso ci racconta nella seconda parte del libro, intitolata proprio La bionda cittadella. Tra tribù e tappeti, dice lui stesso, è qui che col Vangelo in mano nasce e scorre la voce di Gesù. Una voce profonda in cui Padre Dall'Oglio sente la vera fede. Una fede che scorre nella voce di Gesù. Sono davvero parole intense e cariche di emozioni, che ci fanno sentire la forza della fede di quest'uomo. Insieme a tante lacrime di gioie, dice Padre Dall'Oglio, scorre la voce di Gesù. È così che anno dopo anno il monastero di Marmusa si trasforma in un vero e proprio asilo di consolazione, come lui stesso lo chiama. E queste parole ci fanno entrare nell'alba di un nuovo mattino, a cui è dedicata la terza e ultima parte del libro. Padre Dall'Oglio ci saluta, è davvero lui stesso a dirci un suo grande arrivederci. E ci dice come Dio sia puntuale e dedicato quando entra nella vita nostra. Alla fine di un buon dialogo, ci dice Padre Dall'Oglio, ognuno copre il peccato dell'altro, perdona se stesso. Non siamo più estranei gli uni gli altri quando ci scopriamo. Formiamo tutti un solo popolo. Un libro davvero che vi consiglio, da leggere tutto d'un fiato, perché ci dà la carica per andare avanti nel nostro cammino di fede. Il secondo libro che ho scelto di presentarvi si stacca di due secoli, due secoli diversi e due continenti diversi, ma una parola che accomuna questi due libri, ed è la parola viaggio. Ora, infatti, con questo secondo libro ci troviamo in un altro continente, siamo in Sud America. Ci troviamo due secoli fa, siamo alla fine del 1800, eppure c'è un viaggio, un viaggio di fede, che accomuna questi due titoli. Il libro si intitola, infatti, Rosa dei due mondi, ed è scritto dalla giornalista Lucia Capuzzi. Un titolo davvero curioso e intenso, che ci fa scoprire come le donne, lungo i secoli, abbiano accompagnato nella fede tanti e tanti uomini. E queste donne particolari sono le nonne. Questo libro nasce col desiderio di farci scoprire quanto siano state importanti, nel corso dei secoli, le donne. Nel titolo leggiamo Rosa dei due mondi. Ma chi è questa Rosa? E a questa domanda risponde Papa Francesco. Avete sentito bene? Sì, proprio il Papa che dà una risposta a questa domanda. È lui che ci dice «Questa è una donna che ha avuto il maggior influsso nella mia vita di fede». Ebbene sì, una risposta che è arrivata in un'omelia. Un Papa che parla della nonna. Sì, qualcuno magari durante quell'omelia è rimasto scandalizzato. Mai nessuno l'avrebbe pensato. Eppure sì, un Papa che prende spunto dalle parole e dai gesti di sua nonna. Anche l'autrice se lo chiede. E così inizia il suo viaggio. Un viaggio che poi si è trasformato in questo libro. Rosa è infatti la nonna di Papa Francesco. Una donna che ha viaggiato per quasi 90 anni tra il Piemonte e l'Argentina. Grandi donne nascosse molto spesso dietro dei grandi uomini, come in questo caso. E l'autrice nella prefazione ci dice «Se la storia le ha fatte cadere nell'oblio, queste donne, sono certa che qualcuno lassù ha preso nota di ciascuna di esse». Ma cosa ha fatto la nonna di Papa Francesco, ovvero Rosa, per diventare una donna così importante? Perché scrivere di Rosa? Perché questa donna, per più di 90 anni, ha trasmesso al Pontefice quei valori che lui stesso sta trasmettendo ora a ciascuno di noi. Valori come la pazienza, l'amore, l'amicizia e l'accoglienza. Tra tante e tante città come Asti, Torino, fino ad arrivare a Buenos Aires, questa donna è riuscita, come tante altre, a generare nei propri figli e nei propri nipoti valori come la pazienza e la speranza, che ancora oggi rimangono in ciascuno di noi. Donne, insomma, che a partire dalla resistenza hanno trasmesso valori importanti ed è il Papa stesso ad onorarle. Quanti uomini e quante donne nel nostro popolo hanno creato la forza? Sono infatti forti per portare avanti la loro vita e la loro famiglia, ci dice il Papa. Tante persone come madri, padri e fratelli, che sono diventati cittadini e sono diventati testimoni di valori, valori come la fede che dobbiamo portare nel nostro cuore con tanto e tanto coraggio. Vi ricordo quindi i titoli dei due libri che vi ho presentato. Il primo si intitola L'uomo del dialogo e ci racconta la vita di Padre Dall'Oglio, edito dalle edizioni Paoline. E il secondo si intitola Rosa dei due mondi, è scritto da Lucia Capuzzi ed è edito dalle edizioni San Paolo. Un saluto a tutti e un appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Ciao!